Centro psichiatrico di Prato-Lapelini ha chiuso da due mesi e il Tribunale per i diritti del malato, recependo una serie di segnalazioni da parte degli utenti, chiede un incontro al sindaco Antonella di Nino. È innegabile che la chiusura, che si è resa evidentemente indispensabile, ha recato dei disagi all'utenza, interviene la responsabile dell'area legale del TDM, Katia Puglielli, che ha chiesto al primo cittadino un summit urgente per procedere con un intervento congiunto presso la Regione. Si parla di utenti che sono stati trasferiti nell'Aquilano, ma anche di lavoratori. È per questo che insieme al sindaco che ha accolto la mia richiesta, vogliamo cercare le migliori soluzioni per risolvere la problematica e procedere con un intervento congiunto, ha rimarcato l'Avvocato Puglielli, convinta che quando l'asse fra Tribunale per i diritti del malato e istituzioni funziona, i risultati non possono che essere produttivi e a Pratola la Puglielli ha trovato le porte aperte. Vorremmo quindi un incontro per chiarire bene la problematica e soprattutto per adottare in sinergia con lo stesso comune di Pratola Peligna delle soluzioni e degli interventi per poter risolverlo il problema. Bisogna intervenire probabilmente a livello regionale e penso che appunto con un intervento congiunto sia forse un po' più semplice. Il centro psichiatrico è stato chiuso due mesi fa in autotutela in mancanza di pregresse e autorizzazioni assieme al centro per l'autismo che è stato però riaperto in tempi record e restituito alla comunità pratolana.